è una bella vittoria sotto chi ci consente di fare un buon Natale ragazzi ha fatto bene abbiamo sbagliato su quel livello dal fondo dove siamo stati disattenti abbiamo girato 34 punti che sono pochi rispetto a quelli che dovevamo fare solamente a lavorare e cercare di migliorare come ci stiamo facendo tutto è quello di rimanere attaccati alle prime quattro per poi giocarsi alle nostre chance negli ultimi tre mesi la squadra di relazione credo che il campionato stia dando dei risultati in linea con quelli che sono le aspettative di questo campionato noi siamo un pochino indietro per quanto riguarda i giocatori sono un po di ragazzi giovani che sono bravi